pure col turbo tra poco lo spengo perché se no veramente a metà contenuto mi ritrovate orizzontale immaginatevi le visualizzazioni dice sei svegliato elegante allora svuota la spesa nuovo episodio ma oggi vi voglio lanciare una sfida anche su questo canale youtube nell'esatto momento in cui arriveranno mille anzi no scusate mille mi piace su questo video entro la mezzanotte domani vi porto subito un nuovo svuota la spesa raga dipende tutto da voi lasciar mi piace non costa niente anzi pure in maniera alternativa 200 nuovi iscritti su questo canale youtube a partire da questo momento entro la mezzanotte se arrivano secondo modo per sbloccare domani un nuovo svuota la spesa se mi seguite e lo fate in tantissimi e non siete ancora iscritti mi raccomando iscrivetevi perché potete aiutarvi e aiutarmi a raggiungere l'obiettivo nuovo svuota la spesa doppio per questa settimana e si è attivata la campanella arriva sempre la notifica ogni volta che pubblico qualcosa preparatevi che oggi ho comprati sono andato a quel famoso supermercato chilome ma ci chiamiamo chilometri per andare a comprare una cosa in particolare ma ho preso anche altre cose molto particolari preparatevi tra cui la roba per i gatti e non pensate a male però due canali di calcio vi ricordo seguitemi pure per il calcio anche se non vi interessa un canale lascia i canali in descrizione o compariranno qui durante il video lasciamo perdere tre casse d'acqua ho preso una liscia e due frizzanti acqua frizzante proprio l'avevo completamente finita ero rimasto con una bottiglia raga veramente diceva ma che te basta che c'hai la liscia no io a me l'acqua liscia non mi disseta a me mi serve tutto l'anno anche in inverno acqua rigorosamente frizza 100% gas di frigorifero manco acqua frizzante d'inverno e a temperatura ambiente no assolutamente no mi disseta solo quella dice perché pigli quella liscia perché non me la bevo io detto questo diciamo che la notte ecco di notte l'acqua frizzante mi dà fastidio mi bevo l'acqua liscia se non vado sempre solo sull'acqua frizzante e ok due casse frizzanti una liscia ve le faccio vedere roba per i gatti allora pesce raga allora questo è croccantini con pesce salmone trota e tonno muscoli tonici salute del tratto urinario denti e ossa sani mi stanno a convincere quasi quasi me stuzzico pure io un paio sai com'è tratto urinario muscoli tonici denti e ossa sani sarebbe proprio perfetto se può sempre cominciare tanto non è che ci sia scritto vietato se possono mangiare solo animali e poi ho fatto anche la variante carne pollo coniglio e verdure ok carni questo è sempre muscoli tonici salute del tratto urinario denti e ossa sani quindi volendo pure questa una bottarella pure di questa e sta a posto ok poi ho preso ho trovato mi serviva pure la lettiera dice ma perché la lettiera dice c'hai la campagna di gatti che girano che fanno me salgono sopra quando le gatte partoriscono me salgono sopra i micetti me portano perché stanno più sicuri qua che c'è sta il cancelletto e via dicendo me portano i gattini piccoli quindi c'ho la sabbietta per loro per farli cacare che me cagano che tutto il barcone no il barcone il balco il barcone è un'altra cosa il balcone diventano schifo diventa una mattina perché poi ce l'ha portati non se ne siamo accorti perché si erano infilati sotto le poltrone c'abbiamo poltrone quelle da da sì da bar come si chiamano quelle da esterni eh abbiamo cominciato a trovare cacate a destra e sinistra ho detto ma che cazzo erano i gatti piccoli che cacavano dei cacatini vabbè ho preso mazza quanto quanti chili sono mazza quanto cazzo 10 l 10 l 10 litri 10 kg vabbè comunque questa è assorbente profumata ragazzi letti agli agrumi prodotto in italia ultra assorbente neutralizza i cattivi odori sono proprio curioso di vedere granuli omogenei 100% naturale perché perché ogni volta che vado davanti alla lettiera d'estate con sto callo la puzza de merda con le cagate dei gatti in sé può stare ma non si respira ho detto ma c'è sta quella profumata voglio proprio vedere se copre la puzza de merda non ci credo manco se lo vedo però sicuramente qualcosa in più sarà allora stasera c'ho a fabio a cena perché stanno ferie perché dobbiamo registrare qualche contenuto gli ho chiesto che vuoi e ho detto va bene se piglio questo questo e questo ma ha detto che sì questo è un bignè non è una rosetta questa no no si chiama pure rosetta ma che sto a dire ma pure bignè vabbè de pane poi percorso qualità ho ripreso la delicata quindi carote riccia pan di zucchero radicchio rosso spinacino filiera controllata prodotto lavato e pronto per il consumo non lo so se fabio gradisce l'insalata sì ogni tanto la gradisce ma fabio quella verdura non è che ci fa tanto poi ragà questa su twitch sarebbe stata da ban tutta la vita qua non lo dico io ma lo dico loro che ci posso fare cioè poi fate voi eh non ci posso fare niente pancetta affumicata incubetti questa è comunque la più buona in assoluto eh li ho provate di tutti i tipi euro spinning cose cornad questa è la più buona in assoluto e va bene che poi bisogna vedere se l'affumicato è finto è vero ma guarda eh ma scopro che è finto eh dove sta scritto grassi aspetta no mo sto curioso eh perché è affumicatura non c'è sta scritto sarà far farlocca 100% ideale per la carbonara peccato che la carbonara non si fa con la pancetta ma si fa col guanciale che vergogna qua no no mi si sono accartocciati l'affettati mannaggia la mignotta ragazzi con quello che costano poi mi si è pure fracicato un po' l'affettato che cazzo è che ci sta fammo così fammo così allora innanzitutto altri dubbi e siamo tre altri dubbi e siamo tre io Fabio e la mia ragazza mi figlia ancora ma siamo quattro mi figlia ancora nelle maglie a queste cose ho preso tre bignè ok stavano così stavano ma che ne so io poi allora mortadella suprema sembra tipo un video mio super sfoco suprema roba del genere super sfoco mortadella fiorucci allora 2 euro e 31 sono quanti atti so 2,18 quindi non è male sta 12,90 al chilo comunque pure la mortadella sale dei prezzo che una volta costava 8 euro al chilo costava mo costa 12 tiè quindi un paio d'attiti di mortadella rigorosamente col pistacchio cercamo ultimamente la fanno pistacchio e pepe tutto insieme non l'ho trovata e vabbè questo ho preso 2 euro e 31 o 81 no 2,81 magari 2,31 e poi 6 euro di prosciutto per Fabio che dice lo sai io mi metto in pezzo di pane a tavola un po' di prosciutto e sta a posto ho preso quello di Bassiano che tra l'altro stava pure in offerta perché questo costa un botto sta a 24,90 al chilo in offerta ma costerebbe 33 quindi ho preso due e mezzo quasi a 5,88 ma è proprio come piace a Fabio carnoso poco grasso poco grasso un filetto di grasso per lui ce deve sta stessi gusti miei quello del Bassiano è molto molto particolare come prosciutto non è proprio dolcissimissimo è una via di mezzo però è un prosciutto che merita particolarmente per chi è esperto del settore poi che cazzo ho piegato qua che sta? ah pizzette rosse 6 pizzette quindi 2 per 1 3 no so 5 1 2 3 4 ci ho fatto male i carcoli vabbè una me la magno prima che arriva così poi gli dico che so una per 1 no 2 me la magno prima che arriva così gli dico che so una per 1 e va bene a posto poi mazzesse infame mi mancava la pasta abbiamo fatta l'altro giorno per chi mi segue su instagram ha visto le stories so che vi piace potrebbe tornare quello che state pensando ma non lo spengo vogliano a orizzontale chi se ne frega mezzi ricadoni uno dice ricadone pensa subito a male questi questi ok no ricadoni che pensate voi poi la roba che mi fiamo ve la faccio vedere questa è la grandissima novità ragazzi diciamo che sappia per culo è un semplicissimo melone invernale tra virgolette noi qui lo chiamiamo così no il melone giallo no è melone limelon lime 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 praticamente è with a touch of lime quindi praticamente credo sia un innesto tutti gli effetti di frutta quelle classiche mele pesche mele banane pesche mele pere roba ecco questa è fatta con lime quindi un melone a lime infatti guardate pure la coccia che è diversa da quella del melone invernale no verde giallino sono si sente un cazzo d'odore sono curiosissimo di assaggiarlo il il limone melone melone limone pepsi cola al gusto di limone poi comunque non ho piato un cazzo ragazzi miei cioè se io vi dico quanto ho speso ma mi ho bestemmio veramente allora poi la roba per mi fianco costa tanto in realtà quindi non è manco quello allora questo mancava ho preso un paio di litri di sapone liquido cocco e vaniglia giusto per cambiare no poi io adoro il cocco in tutte le sue forme pure la vaniglia non è che mi dispiace quindi ho detto fammi una cosa desto tipo non costa manco tantissimo questa è una delle più convenienti in milla milla poi mi mancava il tonno stava in offerta pure un buon prezzo tra l'altro 349 queste sono 4 da 70 grammi sgocciolate 70 grammi mi pare com'era o 70 grammi in olio d'oliva col peso totale peso sgocciolare 52 grammi col cazzo vabbè però è olio d'oliva quindi sarà minimo ci mettono diserbante qualcosa del genere dentro per far finta che è olio d'oliva e 4-3 euro e vaffanculo poi allora c'avevo una voglia matta dei cipolline queste se vedi quelle cona buonissime se possono mettere in mezzo all'insalata volendo non sono per niente male ma soprattutto c'avevo voglia i prodotti ortocori regà non mi pagano per far sta sponsor ma veramente sono un qualcosa di clamor roses c'avevo voglia dei zucchi l'altro giorno ho preso le melanzane e ve l'avevo fatte vedere a sto giro e non l'ho ancora aperte a sto giro prendo le zucchine alla brace sott'olio buonissime o sott'olio no sott'olio sott'olio è romano e olio di semi di girasole però è olio extravergine di oliva quindi mischiano un pochetto però regà fidatevi mamma mia dice facili prima compatta una zucchina c'hai la griglia e fai non ce l'ho voglia ho comprato è già così non rompe i coglioni poi allora omogenizzati per mia figlia ha fatto 6 mesi resta quasi per fa 7 e ci hanno detto può cominciare a mangiare la carne rossa omogenizzata quindi ho preso agnello e qualcuno potrebbe dire ma l'agnello è carne rosso? carne rossa è tutto bianco è carne rossa è carne bianca vabbè non l'avevo mai preso poi se è tutto biologico e poi scannerizzati con l'applicazione tutto 100% vitella vitello chiamatelo come fa no vitello questo è un maschio baby vitello carne rossissima ovviamente poi se pensate che sia bianca non fa niente poi ho preso il maiale coscia del maiale non stagionata biologico prosciuttata praticamente questo è buono questi mi magno io va a finire già lo so come va a finire e poi non scherzare e poi stai manzo manzo criminale manzo e manzi vedete? ok? carne rossa per eccellenza questa è la carne cornuta per eccellenza e quindi insomma almeno dentro le minestrine le cose i semolini gli possiamo dare quel qualcosa in più e poi ovviamente stasera c'è sta Fabio quindi mi hanno mi hanno spellato praticamente sì ho preso le burrate di bufala ma so tre e ho speso la bellezza per tre burrate di bufala 16 euro e 86 centesimi bene dice quanto cazzo hai speso ma vuoi lo dico aspetta che appoggio queste cose metti bene che se cascano queste cose ti casca mezzo stipendio ok perfetto allora perché ci saranno due scontrini aspettate che cerco quello giusto dovrebbe essere questo ma come parli? che giorno è oggi? altri sconti 76 euro e 05 ma era aspetta eh no aspetta aspetta che devo vedere questa è Eurospin un po' S quest'altra è Conad che è sta roba no 4 euro e 60 ma perché lasci i scontri dei vecchi? è 76 euro e 05 che poi quella mi ha detto praticamente che era tipo 79 qualcosa con la tessera insomma c'erano degli sconti particolari e mi hanno fatto un paio di euro comunque 76 euro e 05 ho comprato un cazzo ho comprato la roba per fare cacare i gatti la roba per fare mangiare i gatti due botti acce d'acqua due burratacce che ce faccio una sera e le butto il melone lime il tonno la roba per mi fia e questo che non si può dire e basta se non ho comprato nient'altro ragazzi vabbè niente grazie per la visione vaffanculo i soldi che se ne vanno alla prossima con un nuovo video